bentornati io sono sempre filippo e questo questo è fiaba in carrozza oggi vi racconterò l'ultima fiaba di questa stagione quindi mettetevi comodi la storia di oggi è il piccolo non ti scordar di me il piccolo non ti scordar di me un giovane cavaliere passeggiando un giorno per la foresta vide spuntare tra l'erbetta un grazioso fiorellino azzurro che non aveva mai visto prima d'allora si chinò per osservarlo da vicino e allora il fiorellino con accento lieve come un soffio di vento sussurrò non ti scordar di me il cavaliere fu profondamente stupito nel sentire queste parole e colse il miracoloso fiore parlante per portarlo al castello e mostrarlo agli altri ospiti allora nel punto dove era stato il fiore il terreno si aprì svelando un'immensa caverna piena d'argento d'oro e di pietre preziose una meraviglia il giovane rimase senza fiato dinnanzi a un tale spettacolo poi entrò risolutamente nella caverna e cominciò a riempirsi le tasche con tutta quella grazia di dio anzi per essere più libero nei movimenti depose in terra il fiorellino azzurro il quale reclinando la testina mormorò in tono di dolce rimprovero e di accorta preghiera non ti scordar di me sì ho proprio il tempo di pensare a te vedrai che per portar via un umile fiore lascerò qui tante ricchezze mi credi proprio matto fino a questo punto rispose insolentemente il cavaliere e preso un ultimo pugno d'oro si avviò traballando all'uscita tanto carico da non potersi quasi muovere il fiorellino allora mormorò per la terza volta non ti scordar di me ma il cavaliere sghignazzando lo urtò col piede non lo avesse mai fatto un tuono formidabile fece tremare la terra il sole s'abbuiò per un attimo il cavaliere svenuto dallo spavento fu scaraventato da una forza misteriosa a mille metri lontano quando riprese i sensi si trovò presso un torrente limaccioso che gorgugliando contento portava a valle tutto l'oro l'argento e le gemme cadute a lui dalle tasche provò ad alzarsi ma un dolore terribile al piede destro glielo impedì per fortuna alcuni contadini passarono di lì e lo condussero al castello in vano però egli chiamò da tutte le parti del mondo i medici più celebri nonostante tutta la loro scienza rimase zoppo per tutta la vita e questa era l'ultima fiaba di questa stagione ma non temete questo non è un finale grandi storie ci aspettano dovrete solo pazientare un pochino strette la foglia larghe la via voi dite la vostra che io ho detto la mia e come sempre se questa fiaba vi è piaciuta e non volete perdervi le prossime avventure vi aspetto per dire la vostra con un like o un commento sul profilo instagram fiaba in carrozza a presto miami 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 Grazie a tutti.